allora salve ragazzi allora praticamente questo purtroppo non è un video di calciopoli perchè vi avevo detto che avrei fatto il video della sentenza di Decilis ma ancora su google, cioè su internet non c'è perchè c'è stato oggi il processo quindi penso che bisognerà aspettare almeno domani per saperlo quindi penso di fare il video domani sera sia di Cagliari Juventus e della sentenza di Decilis prima farò il video di Cagliari Juve e poi della sentenza di Decilis ovviamente però stasera faccio solamente un pre partita di Cagliari Juventus allora ragazzi, dato che ho le formazioni siamo, adesso si è il 18 dicembre, sono quasi le 2 e siamo più o meno a quasi 17 ore della partita forse un po' di più un po' più di 17 ore della partita, sono quasi le 2 e la partita è alle 19 allora la formazione del Cagliari è Zeman gioca con i 4-3-3 Cragno, Balzano, Rossettini, Cepitelli, Avelar, Krizetig, Conti, Ekdal, Kossu, Ibarbo, Farias allora, il più preoccupante, già ve lo dico chi è, è Ibarbo indubbiamente il più preoccupante perchè lui può scattare in velocità e ci può creare tanti problemi anche Kossu non è da sottovalutare il resto, sinceramente, mi sembra poca roba Conti ormai è abbastanza, ha un'età Conti ormai anche Ekdal potrebbe fare il suo Farias, io sinceramente non lo conosco molto e quindi il più pericoloso, secondo me, il più pericoloso sono Ibarbo e Kossu però ragazzi, questa non ci sono discussioni la Juve domani deve vincere cioè, non ci sono discussioni poi discuteremo domani sera discuteremo con me, ovviamente se di Roma-Milan della Roma che se facessi il passo falso sarebbe meglio però noi dobbiamo vincere intanto vinciamo per noi e dopo se vinciamo andiamo a più 4 e dopo per due giorni almeno stiamo a più 4 poi sabato vedremo e invece la Juve fa la formazione 4-3-1-2 quindi praticamente sarebbe un 4-3-3 diciamo solo che uno sta un po' più dietro alle ponte Buffoni in porta Lick Steiner Ogbon Chiellini Evra Vidal Pirlo Marchisio Pereira Tevez Morata e l'allenatore Allegri perché domani Allegri torna domani Allegri torna in campo perché la squalifica la Juve ha fatto il ricorso e gli hanno tolto la squalifica perché non evidente in realtà questa squalifica non si sa neanche perché l'hanno data perché non ha detto niente di di eclatante potrebbe essere stato solo un po' per il recupero che in effetti non si è giocato c'è un ragazzo tivoso della Roma che mi sta mi sta scrivendo molto mi sta scrivendo e sta dicendo che Garzia cioè non l'ha detto l'ha fatto capire che Garzia ha fatto bene perché la Juve perché in Juve Roma abbiamo fatto almeno due gol irregolari e io gli ho scritto che e ve lo ridico il rigore di Maicon non c'era il rigore di Toddy non c'era il rigore su Pogba c'era parole della gazzetta dello sport che non difende mai la Juve al momento del tocco Pogba pizzica l'area di rigore quindi rigore il gol di Borunce è regolare non voglio parlarne di più perché ragazzi veramente mi sono rotto i coglioni voi romani dovete stare zetti dopo i favori che sono stati fatti basta parliamo di Cagliari e Juve allora domani deve essere una partita in cui principalmente la Juventus deve metterla sul piano fisico principalmente Licksteiner Licksteiner deve cercare di fare quello che non l'ha fatto con la Sampdoria cercare di prendere palla correre parecchio smembrare la difesa cioè smembrare la difesa sì smembrare la difesa perché quelli che vanno verso di lui lasciano il buco in mezzo ed è quello che deve puntare che deve puntare Licksteiner non gioca Llorente gioca Morata deve essere Morata speriamo che Morata segni segni il quarto gol in campionato spero che segni chiunque può segnare anche Gubon però vabbè se segni a Morata sono contento comunque ragazzi domani non ci sono alibi veramente se domani sera la Juventus non vince domani sera farò un video veramente che sarò incazzato come una bestia perché domani la Juventus deve vincere non ci sono alibi la Juve domani deve vincere e invece il Cagliari secondo me fare una partita in contropiede forse qualche occasione centrocampo la può creare con Ekdal dato che gioca bene forse può sfruttare la fase di attacco la velocità dei suoi attaccanti Cosso e Ibarbo soprattutto Ibarbo che è molto veloce anche di fisico è difficile spostarlo certo domani in difesa purtroppo non c'è Bonucci però c'è Chiellini quindi non dovrebbero esserci problemi allora ragazzi l'anno scorso premetto che la Juventus era andata sotto con il Cagliari 1-0 rigore di Peniglia no rigore di Peniglia gol di Peniglia su azione quest'anno Peniglia non c'è e dopo la Juve ha venito 3-1 domani la Juve deve essere serena tranquilla deve giocare tranquilla come sa fare lei io però premetto una cosa se la Juve gioca male e vince sono contento però sarò altrettanto preoccupato se vedrò una Juve scadente è normale è normale che la Juve gioca domani perché lo voglio dire c'è la Supercoppa ragazzi e ovviamente dopo dopo il commento di domani di Cagliari di Juve Cillis farò il commento di Roma Milan sabato sera e anche se non la guarderò la partita anzi potrei anche riguardarla tutta potrei registrarla dato che ho MySky e posso riguardarla e dopo Juve Roma farò il commento di del Mil no sì certo di Roma Milan e di Inter Lazio e poi ci rivedremo lunedì con il commento di Juventus Napoli e dopo il commento di Juventus Napoli sarà proprio il periodo ragazzi in cui io se ci sarà un video che riguarderà Calciopoli perché quando il campionato fermo ragazzi io parlerò principalmente del processo ve l'ho già detto so che a voi queste cose non interessano però ragazzi questo processo è delle lacune incredibili ve l'ho detto il testimone principale dell'accusa è anche Manfredi Martino altro testimone dell'accusa due sono sono stati tutti dei rinviati a giudizio ragazzi questa è una cosa fondamentale perché se loro vengono condannati vuol dire che il processo è stata una farsa e io non è che capisco tanti i tifosi juventini cioè alcuni non li capisco possono dire con autonomia anch'io lo facevo un po' di tempo fa che non li vogliono assolutamente Moggi che è stata una rovina per la Juventus allora Moggi diciamo ha riportato la Juventus al successo indubbiamente dal è venuto nel 94 e ha portato la Juventus al successo su questo non c'è dubbio ovvio nel bene o nel male ragazzi è stata fatta un'idea della Juventus un'idea di Moggi di Giraudo di tutti molto brutta nel 2006 e adesso le loro posizioni si stanno completamente riabilitando ci sono troppe incongruenze in questo processo c'è troppo che non va ragazzi c'è troppo che non va comunque basta parlare di calciopoli parlare di calciopoli parlare di questi romanisti che ancora se lamentano con questo Juve Roma che mi hanno veramente esasperato allora stavo dicendo scusate domani la partita la Juve la deve fare assolutamente la deve fare perché è più forte del Cagliari o perlomeno se fa fare la partita il Cagliari deve fare di buoni contropiedi ma se si gioca bene come gioca con la Sampdor nel primo tempo deve farle almeno due golle almeno due golle deve farli perché nel primo tempo abbiamo avuto tre o quattro palle golle forse anche cinque palle golle diciamo quattro palle golle per non esagerare tre o quattro palle golle le ha avute tutte e ha fatto un gol non va bene non va bene perché poi vedi Gabbiadini ha un'occasione e te la mette dentro e poi su un tiro sempre Gabbiadini tiro di via da Gobonna se Buffon non fa quel miracolo tu perdi e prendi zero punti e stavamo a parlare delle Juve a Roma prime e questo è il problema comunque Buffon è stato premiato miglior portiere dell'anno della Serie A dello scorso campionato ovviamente sono molto contento per lui ma tutti i giocatori sono stati premiati tutti i giocatori sono stati premiati dalla Juventus i principali Pierlo, Buffon questi qui praticamente sono contento per Gigi sono contento perché sta dimostrando di essere non un portiere forte un grande un grandissimo portiere veramente un fuoriclasse un fuoriclasse Buffon è un fuoriclasse e ci ha salvato ci ha fatto prendere almeno un punto quindi ragazzi domani la Juve deve cercare di no deve cercare di vincere deve vincere deve vincere per forza non ci sono discussioni perché se non vince veramente se non vince la Juventus domani noi domani se vinciamo siamo campioni d'inverno e essere campioni d'inverno no no ancora no ancora no ancora non siamo campioni d'inverno vabbè anche se no no non siamo campioni d'inverno ancora mancano un po' di giornate questa è la sedicesima sì 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 ne mancano tre comunque anche se non siamo campioni d'inverno anche se non siamo campioni d'inverno restiamo primi nemmi per tutto il 2014 fino a che non ricominci il campionato poi poi quando ricominci il campionato mezzogiorno e mezzo c'è Udine c'è Roma e alle nove c'è Juventus e questa è una brutta tegola perché se non vinciamo domani la Roma va prima sono cazzi e per questo che dico la Juve deve vincere la Juve deve vincere ripeto se la Juventus vince speriamo che Roma e Milan finisci in un pareggio un pareggio va benissimo se Milan perde sono contento perché Milan perde se pareggiano tutti e due sono contento perché non vince nessuna delle due e Milan non vince la Roma perde Ponte e non li guadagniamo se Milan vince sono contento perché ha perso la Roma e la Juventus e rimane più 4 se Milan vincesse a Roma e la Roma ha mezza squadra mezza squadra fuori Garzia ancora Garzia cioè ragazzi Garzia ha dato un pugno a uno Stewart ci rendiamo conto cioè dico voi riuscite a rendervi conto della gravità della cosa non lo so se vi rendete conto Olebas ha fatto il terzo dito alla curva della Genoa quindi Olebas Garzia non ci sarà vabbè i giocatori sono Olebas Pjanic e Astori Astori e Olebas sì Astori e Pjanic erano difidati sono stati ammoniti quindi squalificati e Olebas invece ha perso delle giornate delle giornate mi sembra tre quindi ragazzi mi raccomando domani voi controcazzi vi voglio ragazzi porca troia domani voglio una grande Juve voglio una bella Juve e bisogna vincere domani non ci sono discussioni raga mi raccomando concludiamo il 2014 da primi bisogna essere a 4 punti domani sera alle 9 bisogna essere a 4 punti domani sera alle 9 senza discussioni senza niente bisogna essere a più 4 per forza non voglio alibi domani tocca vincere bisogna vincere perché a sto giro c'è un numero il calendario la partita facile e la Roma no e e se noi vinciamo anzi se noi non vinciamo se vinciamo tutto bene dopo quel che fa la Roma ma se non vinciamo quando rientro è la Roma che è la partita più semplice della nostra è la Udine Udinese vabbè sta giocando abbastanza bene Udinese però noi giochiamo con l'Inter va bene in casa però è più difficile per noi quindi ragazzi mi raccomando coi controcazzi testa facciamo il gioco che sappiamo fare sulle fasce niente cazzate niente cazzate mettiamo dentro sta palla va bene anche vince 1 a 0 anche se sarebbe poco ma va bene anche vince 1 a 0 al 95esimo al 150esimo bisogna vince punto e stop raga mi raccomando conto su di voi Buffon io conto su di te conto su Tevez conto su tutti su Gubon su Giellini su L'Ikstain su Evra anche che stava giocando bene Evra Vidal devi risvegliate perché tu non eri quel giocatore dai risvegliate Pierlo tu sei un campione e devi dare il contributo Marchio sei un grande giocatore dai Pereira uguale Tevez Tevez domani i segni è fine dai dai ragazzi mi raccomando dobbiamo vincere forza ragazzi forza ragazzi bisogna vincere dopo domani saranno tutti i calcoli che vogliamo con Roma e Milan quando andiamo al campionato ma bisogna vincere non ci sono scuse domani c'è una cosa che conta come sempre ma domani ancora di più vincere domani è fondamentale vincere è anche un fatto psicologico concludere il campionato ripartire nel campionato con noi avanti ragazzi mi raccomando bisogna vincere bisogna vincere conta questo è uno dello stile Juve questo ma domani è fondamentale niente cazzate forza ragazzi buona fortuna ciao ragazzi ci vediamo domani sera sempre forza Juve ciao grazie a tutti